Stadio Buitoni a Sansepolcro con Giacomo Gorini che si appresta a rientrare in squadra. Vi attende una trasferta molto insidiosa, quella di Livorno, e poi una partita casalinga con il Gavorrano. Una Serie D che è iniziata veramente tosta. Sì, diciamo che abbiamo subito assaggiato la Serie D quella vera. Ora abbiamo altre due squadre che sono accreditate per la vittoria finale, che sono Livorno e Gavorrano, secondo almeno gli addetti lavori. Quindi di cinque partite, quattro con squadre attrezzate, con squadre tra le più forti via il girone. Bisogna andare a Livorno cercando di fare una bella prestazione per poter riportare comunque dei punti. Tu hai assistito a tutte le partite dalla tribuna, se non altro. Che impressione hai avuto? Quale sarà il tuo contributo se rientrerai? Allora, l'impressione che ho avuto è che comunque la squadra può stare in questa categoria tranquilla, alla grande diciamo. Con il Tau è stata l'unica partita, secondo me, che è mancato anche un po' di gioco. Però il nostro percorso passa anche da queste sconfitte. Siamo una neopromossa, una squadra nuova con tanti giovani. Bisogna rimanere molto positivi, non perdere l'entusiasmo, lavorare duramente in settimana e andare avanti. Ritrovi il tuo fratello o farete coppia? Ritrovi il mio fratello, è quello che se facciamo coppia deciderà il mister. Sicuramente io o lui diciamo che non ci faremo condizionare da questo, andremo in campo ognuno dando il meglio di se stesso.